Salve sono Luca Bertarelli in arte DJ Berta oggi sono qui per i miei fans e gli amici che me l'hanno chiesto e richiesto allora ho deciso di fare questa piccola spiegazione di questo ballo che comunque esiste già Master KG Gerusalemma partiamo insieme piano piano teniamo il tempo poi potete partire quando volete voi il tempo è conto così si conta 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 e 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bene ragazzi, dopo aver visto questo tutorial spero che vi piaccia, vi auguro un buon divertimento, un buon ballo a tutti, ricordandovi che il balletto potete improvvisarlo, interpretarlo come volete voi, personalizzarlo come preferite. Buon divertimento, buon ballo da DJ Derta. Ciao!